Domani martedì 14 novembre la perturbazione staziona sulle regioni meridionali della nostra penisola e richiama sul centro levante nubi sparse e soprattutto sui versanti padani che si alterneranno al sole, sereno o poco nuvoloso a Ponente, umidità su valori medi, ventina nord-nordest forti o di burrasca e rafficati, mare mosso o localmente molto mosso. Dopo domani mercoledì 15 novembre un'altra giornata all'insegna dell'alternanza tra sole e nubi che saranno più consistenti sui versanti padani del centro e del levante, umidità su valori medio-bassi, ventina nord-nordest forti o di burrasca e rafficati in calo nel pomeriggio, mare mosso o molto mosso.